Ciao ragazze, ciao a tutti! Oggi vediamo come si lavora con il tricotin manuale, quindi questo aggeggino qui. Questo l'ho trovato in un giornale, però poi lo potete trovare tranquillamente alla Lidl, in merceria, eccetera, eccetera. Quindi consta di questa struttura con un buchino in mezzo e poi questi quattro, diciamo, gancetti. Lo potreste fare anche voi mettendo dei chiodini, è la stessa cosa, questi gancetti li usano per avere più facilità nel lavorare il filo. Quindi questo è il buchino, vedete che è vuoto, e in più abbiamo anche questa specie di stecchino, questa parte per poter prendere il filo. Ma voi potreste utilizzare anche un uncinetto, dipende da come vi trovate meglio. Allora, vediamo come si realizza con questo aggeggino il tubolare. Ho preso un filato, questo è di cotone per farvi vedere più che altro la riuscita, però secondo me se mettete la lana è meglio. Devo far passare questo filato all'interno del buchino. Mi aiuto con un uncinetto e inserisco il filo in questo modo e lo faccio uscire da sotto. Ok. A questo punto, ecco lo mettiamo di faccia, a questo punto devo fare questo piccolo giochetto iniziale. Ah, volevo precisare che ci sono tantissimi modi per lavorare questo tricotin manuale, però io ne uso uno che mi è stato insegnato quando ero molto piccola e con cui mi trovo bene, che trovo che sia molto molto semplice, quindi ve lo ripropongo. Allora, prendiamo il nostro tricotin e facciamo finta, no, facciamo finta e troviamoci esattamente in questa posizione, con i due gancetti nella parte frontale e due invece nella parte perpendicolare. Allora, cominciamo, prendiamo questo filo e lo portiamo da destra verso sinistra intorno al primo gancetto. Vedete? L'ho fatto passare da destra a sinistra, poi andiamo su quello di fronte, quindi questo lo salto, andiamo su questo di fronte, lo faccio passare da sinistra a destra e vado di nuovo da quello di fronte. Quindi, ho fatto passare questo così e poi ho fatto così, dopodiché lo faccio passare di nuovo di qua e questa volta vado a prendere anche quello a fianco, in questo modo. Possiamo girare il nostro tricotin, quindi ci ritroviamo con questo che è vuoto nella parte frontale e andiamo ad attorcigliare anche questa parte, così. Ne saltiamo uno e andiamo a finire qui. Il risultato è che ci troviamo con due fili su questo, uno qui, uno qui e due qui. Vi faccio rivedere questo passaggio e poi proseguiamo. Allora, tengo un attimino, fermo questo sotto, altrimenti va tutto via. Da destra verso sinistra, vado su quello di fronte, ne salto uno, vado su quello di fronte ancora, ne salto uno e rimetto il filo, quindi ne ho due, vedete? Li vedete? Sono due. Rimetto il filo su quello frontale. A questo punto mi sposto e mi sposto su quello a fianco. Vado su quello frontale, quindi ne salto uno, e vado su quello frontale ancora, questo qui. E quindi ho saltato quest'altro. A questo punto mi ritrovo in questa posizione. Allora, ci troviamo in questa situazione e quindi quando vediamo che ci sono due fili, quello sotto lo dobbiamo far passare sopra, però anche qua abbiamo due fili. Quindi, prima facciamo questo qui e facciamo passare quello di sotto, lo facciamo passare sopra. È molto lento perché andremo sotto e andremo a tirare. Eccolo, lo andremo a tirare poco a poco e si sarà formato questo nodo. A questo punto facciamo passare anche questo qui, che è di sotto, lo facciamo passare sopra. In questo modo. E andiamo a tirare. Eccoci qui. Procediamo. Giriamo sempre in senso, oddio, ora mi perdo, in senso orario. Quindi, poggiamo il filo semplicemente qui sopra ai gancetti, il filo che troviamo sotto, lo prendiamo e lo facciamo passare sopra. E nel frattempo tiriamo giù. Tiriamo questo filo e lo tiriamo giù. Procedo. Vado sul prossimo, prendo il filo che si trova sotto, lo passo sopra e tiro poco a poco. Procedo. Vado su quello a fianco, prendo il filo che si trova sotto, lo faccio spostare sopra e tiro poco a poco. Procedo ancora. Quindi devo fare, adesso sarà semplicissimo, perché dovrò fare esclusivamente questo lavoro, cioè passare ogni volta con il filo sopra quello precedente e quindi aiutarmi con l'attrezzino oppure con l'uncinetto se vi trovate più comode, perché in questo caso, vedete, non si prende il filo, e quindi con l'uncinetto potreste andare un pochino più comode. Faccio passare sopra, prendo e passo il filo, prendo e passo il filo. Effettivamente con l'uncinetto potreste andare un pochino più comode. L'unica cosa è che dopo un tot di giri che avete fatto, tirate sempre il lavoro sotto in modo che abbiate questa struttura qui. Lo tirate non tantissimo, perché tanto poi durante la lavorazione si andrà comunque ad allentare un pochino, però una volta che vedete che se ne è rialzato tantissimo e quindi non riuscite più a lavorare, tiratelo poco a poco. E si tira. Allora, io continuo per un pochino, così vi faccio vedere che cosa esce da questa parte, e poi vi mostro come si chiude. Allora, come vedete, questo è il risultato dopo che ho fatto un bel po' di giri. E vedete, è proprio il trigo di inevere, è proprio come se fosse quella manovella. A questo punto vi spiego come dovete chiudere il lavoro. Allora, potete decidere di alzare poco a poco, spingendo questa parte qui, alzare poco a poco il lavoro, e quindi far uscire tutte queste catenelle, sì, dico bene, tutte queste maglie, tutte queste catenelle, oppure ad una ad una le fate uscire. Quindi senza passare nessun tipo di filo. Prendete, e le fate uscire. In questo modo. Tagliate ovviamente il filo, che non vi serve più, e tirate dalla parte sotto. A questo punto, se le maglie non si notano bene, vi zoom, se le maglie non si notano bene, ne slacciate qualcuna, in modo che possiate vedere tutte e quattro le maglie che si sono formate. Munitevi di uncinetto, iniziate a mettere l'uncinetto in ogni singola maglia, fino ad arrivare quindi a quattro. Eccole qui. Poi prendete il filo, e lo passate intorno a tutte queste quattro maglie. Riprendo di nuovo il filo, e chiudo bene bene. Quindi ho chiuso il mio tricotin. Nel momento in cui chiudete, naturalmente la usura non sarà una delle più perfette, ma nemmeno l'inizio lo è uno dei più perfetti, vedete? Queste parti poi andranno naturalmente chiuse, nel momento in cui andate a lavorare, o comunque, se dovete apporre delle coppette, eccetera, eccetera. Quindi, questo qui è il risultato. Mi sembra una valida alternativa a quella manovella, che sicuramente è molto più veloce, però è anche semplice questo qui da fare. Una volta che avete preso la mano, sarà semplicissimo. Detto questo, spero che il video vi sia stato di aiuto. Ci vediamo al prossimo. Un bacio a tutti. Ciao, ciao! Ciao, ciao!